Musica Vederdì 4 dicembre, Santa Barbara. È il 330esimo giorno dall'inizio dell'anno. Ne mancano 27 al termine. Il sole sorge alle 7.33 e tramonta alle 16.32. La luna si leva a mezzanotte e 29 e tramonta alle 13.09. Per non aggravare le già precarie condizioni di salute del podestà dell'isola di Torcello e affinché non siano trascurati gli interessi della comunità isolana, lo satorizza a tenere le riunioni del Consiglio nella propria casa e a dirigerle anche stando a letto. A Treviso arriva il Natale. Il quartiere El Borgo si riempie di luci, colori, sapori e musica. Mostra mercato dell'artigianato creativo natalizio. Le domeniche 6, 13, 20 dicembre. Vi aspettiamo numerosi lungo le vie del Borgo. Domenica 27, mercatino dell'Antiquariato. Il 5 e 6 dicembre a Pove del Grappa, trentesimo campionato interregionale di ornitologia. Un viaggio nel mondo degli uccelli di svariate specie, dai canarini ai pappagalli, alle specie esotiche e molti altri ancora. Il club ornitologico Bassano ti aspetta a Pove del Grappa il 5 e 6 dicembre. 5 e 6 dicembre mostra Mani di Fata a Castelcucco presso il Centro Sociale. La creatività si fa arte. Mostra di manufatti artigianali creati sotto i vostri occhi da sapienti mani femminili. Non mancare! Le previsioni per domani. In pianura parzialmente nuvoloso per nubi basse, con foschie e nebbie, meno persistenti, con direttamenti che potranno interessare a molte zone della pianura, specie nelle ore centrali. In montagna cielo parzialmente nuvoloso a tratti, nuvoloso per passaggi di nube a medio-alte. Precipitazioni assenti. Temperature in aumento in pianura, specie le massime, in diminuzione in montagna, specie in quota. Attenuazione dell'inversione termica. Grazie a tutti! Grazie a tutti!